Quasi 100 milioni di metri cubi di acqua in più nelle dighe lucane in appena 4 giorni è uno degli effetti della violenta perturbazione che si è abbattuta in Basilicata e che ha provocato disagi su gran parte del territorio regionale. Se lo scorso 29 di novembre nei principali invasi lucane erano contenuti poco più di 400 milioni di metri cubi di acqua, oggi ce ne sono quasi 500. L'incremento maggiore si è avuto nella diga di San Giuliano passata da 32 a 74 milioni di metri cubi e qui che da alcune ore va avanti il rilascio costante di acqua attraverso una delle cinque palatoie. Nella diga di Monte Cotugno a Senisi invece l'incremento è di 27 milioni di metri cubi di acqua, si è passati da 273 milioni prima dell'arrivo delle piogge a quasi 300 in queste ore. Per i terreni circostanti il bacino d'acqua la situazione non è però favorevole. Le terre recuperate lungo il fiume Sinni a Monte dell'Invaso e che furono assegnate i contadini che proprio sotto Monte Cotugno avevano perduto le loro terre espropriate per la realizzazione della diga sono di nuovo allagate. Due settimane fa dopo l'ultima ondata di maltempo i custodi di questi terreni avevano già segnalato i forti disagi che erano costretti a sopportare.